Ciao ragazzi in questo nuovo video Oggi ragazzi stiamo finalmente su minecraft Allora Nello scorso episodio avevo mostrato sia la piscina Che la farm E in offcam diciamo che con tutta la pietra Che avevo ho fatto la mia casa Praticamente allora Adesso devo anche un po' abbellirla Abbattere questa E che qua resterà solamente la miniera E questa qua è la casa Con affianco la piscina ma ve la mostro Abbiamo al primo piano Qua la scala degli iscritti E al secondo piano Abbiamo il magazzino Con qua abbiamo ancora tutto il ferro Qua abbiamo l'oro Qua abbiamo messo la pietra, la legna E i minerali E mi sono accorto di avere 33 diamanti Che non sono tantissimi Diciamo che una stacca andrebbe meglio Quindi ragazzi oggi andremo in miniera Allora per prima cosa ci servono degli utensili E utilizziamo allora I picconi di ferro Ne mettiamo solamente uno E poi teniamo a fianco la spada E poi ci servono anche Allora la legna Che ne ho accolta molta 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 Tante 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 stacche E ci servono gli stick Per fare con la pietra Che abbiamo Ok Abbiamo un po' Altri picconi Per cui Poi ci serve anche un'altra miniera Perché questa qua è la nostra miniera principale Poi dobbiamo fare tutti i tunnel Fatti bene Mentre invece per andare a cercare di avanti Io mi sposterei un pochettino come zona Allora io lo farei qua Sono i cavalli perché portano fortuna Tutti sanno che i cavalli portano fortuna Se non lo sapete siete Dovete saperlo Dai da quando in qua non ci sono Io almeno lo so Che i cavalli portano fortuna Qua non so voi Adesso l'intero qua c'è della lava Qua c'è dell'acqua Qua c'è della lava Esatto Uh diamante Un diamante L'ho salvato Ok Vedo qua Vedo qua Ok allora Quanti sono Due Tre Quattro Cinque diamantazzoli What? Un blocco di terra Un blocco di terra Così nel nulla Siamo seri? Qua ho messo la torcia Siamo a livello intanto 12 Per cui Questo è a livello di diamanti Continua con un tunnel Che va verso di qua Uh diamanti 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 Yes Quanti diamanti Quanti diamanti Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Addirittura Quanti diamanti? Quattordici diamanti Madonna Oh oggi sta andando molto bene Molto molto bene Ok Continuiamo andando Andando dritto 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 Eccola qua la terra L'operficio Wow Uh addirittura Sono proprio Ho risalito Dopo due centimetri C'è Là Davanti a casa mia Sono risalito Metto qua Ok Ehm Poi Basta Basta Ragazzi Allora Per scrivere Ok Metto Ehm No non si posso mettere Vabbè vabbè Allora Ci metto Anche questo Questo pezzo qua Mila d'oro incantata Allora Ci mettiamo anche Un ferro di ferro da cuocere Poi prendiamo l'oro Mettiamo Dei ferro ali Una stacca Sì Anche una stacca di oro Buono Poi mettiamo la porta qua Che adesso andiamo a piazzare Questa qui la metto a fianco al letto Giusto Come il comodino Metto la porta qua E La casa Decisamente Finita Dai ragazzi Io penserei aver fatto un buon lavoro Ehm Vi ricordo come al solito Di lasciare un like Per piacere Di iscrivervi al canale Iscritto Quando mi sono iscritto Che io Ovviamente tutte le volte Poi vi iscrivo Ehm Però Se non vi iscrivete Non posso Poi magari nel prossimo video Scrivo Gli ultimi dieci iscritti Ok Così almeno Non è poco vuota E niente ragazzi Vi chiedo per favore Di lasciare un like Di iscrivervi al canale Di condividere il video Possibilmente non lo stato Così magari tutta la gente Che lo vede Clicca il link E Lo guarda E niente ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Prossimo video Che sarà di Sempre di GTA 5 Lo so che non sto seguendo Più l'ordine Però adesso i giochi Sono Thief Simulator Fortnite Però Fortnite Non so cosa fare di video Cioè io ci gioco ogni tanto Ma non faccio video Per cui i video Adesso saranno di Minecraft Thief Simulator E GTA Per ora non ci sono Altri video E vabbè Ovviamente i vlog Quando c'è Accade qualcosa Da fare Niente ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Bella raga Ciao